Ogni tanto una gioia, le notizie felici della settimana con Marina e Nicola. Durante una serata che è stata bellissima e in cui sono stata molesta, detta dai miei amici, tra cui a cui presente Marina Micchini. E niente, quindi ringrazio gli Acqua e Rena che mi hanno tenuto compagnia durante questa serata in cui ho ballato mentre mi girava la testa. Mi sono divertita moltissimo. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Benvenuti su Ogni tanto una gioia, il nostro podcast delle gioie settimanali. Tentiamo di regalarvi tantissime gioie. Io sono Nicola. Io sono Marina e questa che avete sentito è la nostra amica Lara che ci ha raccontato un po' del suo fine settimana. Ha iniziato l'estate, un sacco di belle vibes. Esatto. E quindi... Caldo, feste e ubriacature. Esatto. Anche se la Lara comunque c'è da dire che il suo vino non lo finisce mai. E questa volta invece l'ha finito. Infatti è veramente una buona notizia, è venuta lì. Esatto, questa è proprio una buona notizia. Siamo molto fieri di te. Sì. Marina, da cosa cominciamo oggi? Cominciamo proprio da una notizia estremamente estiva. E questa notizia ci porta in Olanda dove il governo ha iniziato una nuova campagna per proteggere la pelle dei suoi cittadini. Infatti dopo la pandemia molti dispenser per i gel sanitari sono rimasti vuoti. E quindi hanno pensato cosa facciamo con questi dispenser? Li riempiamo di crema solare. Quindi questi dispenser si trovano in tutti i luoghi dove una persona può averne bisogno, vicino alle spiagge o ai concerti. Un'idea furba. Esatto. Le persone possono andare e appunto riempirsi di crema solare, così da proteggere la loro pelle e appunto andare ad evitare la possibile insorgenza di tumori cutanei. Dobbiamo infatti ricordare che è molto importante, anche se una persona si abbronza, di utilizzare dei protettori per la pelle e dei filtri adeguati. Proprio perché, anche se non si vede, la nostra pelle subisce sempre dei danni e comunque uno sforzo ogni volta che viene compita dai raggi UV e quindi deve essere sempre protetta. Sì, è importante esporsi alla luce del sole, no? Per tutto quel discorso della vitamina D, rilascio di serotonina, migliora l'umore perché stare un po' al sole e apprendere il sole in spiaggia poi durante l'estate è anche un sollievo. Però è importante non abusare di questa esposizione e proteggersi adeguatamente. Esatto. Tipo, una cosa che nessuno protegge mai sono le orecchie. È vero. Infatti le orecchie e il naso si ustionano come mai. E anche i piedi, uno si dimentica sempre. Sì, sì, che poi li tiri fuori dalle scale sono bianchissimi e quindi proprio si cuociono. O magari stai camminando e ti rimane il segno proprio dello sandalo. Bruttissimo, dell'infradito. Comunque quest'idea degli olandesi è affascinante e molto utile perché tanto uno era abituato a fare il gesto di prendere qualcosa dal dispenser con la mucchina durante la pandemia. Quindi clicca il dispenser e non esce la mucchina, ma esce la crena solare. Geniale. Veramente geniale. Esatto, non so come sia in Olanda, però in Italia sono anche molto costosi i filtri solari. Sì, è vero. Quindi spesso succede che magari se li dimentica o non fa l'investimento, mentre invece sono molto importanti. No, no, è vero. E leggevo che le vogliono mettere proprio ovunque, anche nei club sportivi, ai festival musicali. Eh, ma perché è lì che ti bruci. Ovunque, esatto. Se vai al mare ci pensi, vabbè vado al mare, mi prendo la crema solare. Invece io le più grandi scottature me le sono sempre presi ai festival, alle fiere, in montagna. Perché sono quelle cose dove dici, no, la crema solare è mai, non vado al mare. E invece anche lì ti scotti, perché il sole è sempre lo stesso, sia in spiaggia che ai festival. Quindi questo è un messaggio, esatto. Un messaggio di, come si dice, di sociale. Esatto. Un messaggio sociale perché noi facciamo anche, trattiamo anche tematiche sociali e solari. Esatto. La seconda notizia, sicuramente avrete sentito qualcosa, perché ne hanno parlato la televisione. Hanno parlato di questi embrioni umani sintetici. È una ricerca internazionale. E questi embrioni umani sintetici, cosa sono e a cosa servono? Sono molto importanti per la ricerca. Soprattutto ricerca delle malattie genetiche nei primi stadi dello sviluppo. C'è questo equip di ricerca internazionale che a partire da cellule staminali ha generato, io non li chiamerei neanche embrioni, li chiamano embrioni ma sono delle entità. Perché di fatto sviluppano come un embrione. Però poi effettivamente non sono nati dall'unione spermatozoo o cita. Sono nati proprio da cellule staminali sviluppate opportunamente in laboratorio mediante determinate tecniche e li fanno arrivare ad uno stadio di sviluppo. Non so Mari se ti ricordi vari stadio di sviluppo degli embrioni. Oddio, torna a settembre. No, torna a settembre. Bocciata. Arrivano a quel punto dove ci sono i famosi tre foglietti, endoderma, ectoderma, mesoderma, che danno luogo a tutti gli organi e gli apparati. Questo è quello che interessa agli scienziati. Perché poi da lì riescono loro a capire se eventualmente si sviluppano determinate patologie e a che punto preciso. Quindi in realtà questa faccenda degli embrioni umani coltivati in laboratorio è utilissima da un punto di vista della ricerca. Però ovviamente non c'è ancora nessuna pubblicazione ufficiale sulle riviste e è tutto in divenire. Perché qua implicazioni etiche come se piovesse. Io ti faccio anche un'altra domanda, visto che non ne capisco niente di queste cose. Ma potrebbe anche essere utile per poi limitare l'uso di cavie animali nella ricerca? Certo, a questo punto useresti questi embrioni e limiteresti di molto. Ma anche perché le cavie animali sono comunque osservazioni fatte su un topo o un animale da laboratorio, che è molto simile ma non è come vedere lo studio o quello che vuoi vedere su un qualcosa che è molto vicino all'embrione umano. Quindi te vedi le cose proprio che ti interessano nel momento in cui le vuoi vedere. E c'è questa professoressa, Magdalena Zernika Coetz, che è professoressa di biologia dello sviluppo a Cambridge e di ingegneria biologica in California, perché questo è uno studio internazionale principalmente tra queste due, tra l'università di questi due posti, e dice appunto che gli embrioni sintetici hanno raggiunto un livello tale di specificità e utilità che probabilmente non se ne potrà più fare a meno. Quindi questa cosa va normata. Sì, quindi che inquieti o no, diciamo che è una cosa di cui si deve sicuramente parlare. Esatto. Anche il fatto di doverle chiamare entità è una cosa che spaventa un pochino, perché entità, questo termine, è vago e fa paura. Però, come tutte le cose, bisogna trovare un modo poi per normarle, ovviamente, e rimanendo entro l'etica, quello assolutamente, però anche riuscendo a sfruttarle a vantaggio della ricerca. Sì, tutti comunque passi avanti nella ricerca. Questo senz'altro, questo senz'altro. Bene, allora questo ci porta a nostra ultima notizia, che invece parla di embrioni non artificiali, diciamo, perché all'isola d'Elba è stato trovato un nido di carretta carretta, in particolare al campo dell'Elba. Le carretta carretta sono quelle tartarughe di mare, grosse, sono appunto tipiche del Mediterraneo, però sfortunatamente sono anche a rischio estinzione, quindi ogni volta che troviamo... Non è la novità, vero? No, sì, esatto. Notizie negative. Notizie negative che siamo stati, come si dice... Sì, siamo stati redarguiti da un nostro amico che ci ha detto che questo è un posto dove si parla solo di cose belle e divertenti, invece noi però... Ogni tanto scivoliamo nel negativo, non ce la facciamo a trattenerci, quindi... Però, come dicevamo prima, anche nel positivo c'è del negativo. Esatto, lo yin e lo yang, come si dice, non si può separare le due cose, cerchiamo il bello, ma ogni tanto... Comunque queste carrette carrette stanno bene per ora perché appunto hanno fatto il loro nido sull'isola d'Elba. Questo nido è stato scoperto da due turisti che sono andati appunto alla guardia costiera, l'hanno informata della presenza di questo nido e così la zona è stata messa in sicurezza per permettere così poi alle tartarughe, tra un mese, un mese e mezzo appunto, di schiudersi. A questo punto ci saranno centinaia di piccole tartarughe che cercheranno di raggiungere il mare per poi iniziare la loro vita adulta. Sì, sì, infatti sono intervenuti proprio tutti, è intervenuta Arpa Toscana, è intervenuta l'Egambiente, la guardia costiera, quindi si sono tutti prodigati a proteggere il nido, individuarlo ovviamente, quindi recintare la zona, anche perché lì ci sono spiagge, quindi inevitabilmente... Sì, molto popolare, poi stiamo parlando dell'Elba d'estate. Esatto, la spiagge in questione è poco frequentata, però comunque un nido lo devi segnalare necessariamente. E poi hanno anche messo questi data log per monitorare la temperatura, perché è importante per le uova di tartaruga rimanere a una temperatura superiore rispetto a quella della superficie. Sono dei computer molto sensibili, quindi la temperatura per loro è fondamentale, quindi gli scienziati, i biologi marini hanno inserito questa strumentazione adeguata proprio a monitorare la temperatura. E così sapranno anche quando schiudono. Assolutamente. Ah, dicono un mese e mezzo, noi vi teniamo aggiornati. Sì, vi faremo sapere quando... Sarà una notizia positiva. Sì. Assolutamente. E va bene, quindi queste erano le nostre notizie positive di questa settimana. e per favore mandateci le vostre notizie belle, i vostri vocali, le vostre scoperte, inondateci sul numero di Radio Sancara, che ora metteremo su Instagram. Dateci una gioia. Perché vogliamo sentire tantissimo le vostre voci. Esatto. Ciao. Ci fa molto piacere. Ciao ciao. Ciao. Ciao.